Ciao a tutti, le lettrici e i lettori del gruppo di lettura sugli albi illustrati e sulla differenza di genere degli albi illustrati di questa edizione 2020 dell'Irlande, dei gruppi di lettura della Biblioteca Civica di Brugherio. Vi mando un saluto dall'Atelier dei Lettori, il posto che custodiva la maggior parte degli albi che sono oggetto del nostro gruppo di lettura, dove gli albi ora sono tutti in ordine e pronti per l'assalto di quando potremo poi riaprire la Biblioteca. Io durante una delle giornate un po' sui generis che abbiamo dovuto vivere qua in Biblioteca, uno dei giorni in cui regolamentavamo l'accesso solo per prestiti e restituzioni, mi sono trovata in questa condizione di avere a disposizione due copie dello stesso libro, ma il libro di cui voglio parlarvi è questo, La mamma ha fatto nuovo, l'edizione del 2018 e l'edizione del 93, che nel frattempo poi è uscita in prestito, mi pare che ce l'abbia Anna, Anna, buona lettura. E' stato molto interessante poter fare la lettura comparata di questo album nella sua versione 2018 e nella sua versione 1993, perché con diversa traduzione, diversa traduttrice, emerge che c'è anche soltanto nel giro di 15 anni un linguaggio diverso, un riferimento simbolico diverso, un approccio pedagogico diverso, dei costumi diversi. Ecco, mi piacerà sottoporre alla vostra attenzione questo esame comparativo. Come d'altra parte penso che voi abbiate delle cose da dire, come ho già potuto verificare nell'incontro di febbraio, un gruppo bello tonico, dove il confronto si è aperto molto facilmente tra le persone. Ecco, quindi vi scrivo poi una mail chiedendovi se mi interessa davvero, potete rispondere qui nella chat di YouTube, se vi interessa che io trovi una data e un sistema per incontrarci anche virtualmente. Questo per sopperire un po' almeno a una delle mancanze a cui siamo sottoposti e costretti in questo periodo. Sappiamo che la mancanza è una cosa che ci costa particolarmente e di cui ci accorgiamo in particolare in questo momento. Ovviamente senza voler né imporre né pensare che questa sia l'attività più importante della Terra, non lo è, però potrebbe darci un sollievo e potrebbe darci una serata un po', concederci una serata un po' diversa, un po' di divertimento. E nell'attesa volevo anche proporvi, e vi manderò il link a questo articolo, anche vi manderò l'articolo direttamente, la lettura di un articolo che è questo, Chi ha paura delle fiabe, di Giovanna Zogoli, che è una responsabilità editoriale dei topi pittori, grande competenza, grande conoscenza del mondo infantile, che purtroppo non è una cosa scontata neanche nell'editoria per ragazzi. Questo è un bellissimo articolo che parte proprio dal libro di cui abbiamo discusso all'infinale, all'altro incontro di febbraio, ed era il libro, vi ricorderete, La bambina e il lupo, appunto di topi pittori, che è una delle ennesime versioni di Capucciato Rosso. Questa ci ha fatto molto discutere, perché agli uni è parsa un po' scabrosa, agli altri è parsa invece molto interessante. In questo articolo si dicono molte cose interessanti sulle fiabe, e sull'importanza di far sperimentare delle situazioni, anche per esempio la paura attraverso le fiabe, di considerarle un terreno di allenamento, un personal trainer diciamo. E tra l'altro Giovanna riporta questa esperienza di Tiziana Robertsi, che è l'autrice appunto del testo, di aver letto versioni diverse di Capucciato Rosso a un gruppo di bambini e di adulti, e di aver appunto rilevato il disagio degli adulti nel trovare una versione così scabrosa, e dall'altra invece l'entusiasmo dei bambini di trovare una versione in cui è Capucciato Rosso che se la cava e se la cava da sé. Questo è molto illuminante rispetto allo sforzo che stiamo facendo di metterci dal punto di vista bambino nella letto degli ambiti illustrati. Per cui, nell'attesa di poterci incontrare o virtualmente o di persone, intanto volevo mandarvi questo articolo. Bene, colgo l'occasione di questo video per salutarvi, salutarvi con molto affetto. Ci mancate e far sapere a tutti i nostri lettori, non soltanto quelli di Ghirlanda, a tutti i nostri cittadini e abitués che chiaramente ci mancate, che abbiamo approfittato di questo periodo per fare a nostra volta dei lavori dietro le quinte, per comunque intrattenere relazioni anche con voi. Questo è il secondo sforzo che stiamo facendo anche virtualmente, ma per il piacere di poterlo fare, perché il contatto personale in biblioteca ogni giorno è per voi una cosa preziosa, ma anche per noi una cosa molto gradita e molto gradevole. Quindi io resto a casa, io resto a casa a leggere dei libri e a volerli confrontare con voi, questo deve valere per noi tutti, però troviamo dei sistemi per uscire un po' da questa tensione che abbiamo, che ci tocca avere. Un bacio a tutti.